Ragazzi, oggi vi parlo di Teleton, dove mi ha dato questa splendida scatola di latta contenente cuori di biscotto con gocce di cioccolato. È un'edizione speciale soprattutto perché è in occasione della festa della mamma che si terrà questo 9 maggio. Torna la campagna di primavera Io per lei, appunto la fondazione dedicata alle mamme. Con questi biscotti si cerca di sostenere la ricerca scientifica di fondazione Teleton con i cuori di biscotto. Vuol dire appunto compiere un atto di vera solidarietà verso le mamme e i bambini con questa malattia genetica rara. Ecco appunto, ogni momento è buono per metterci il cuore. Possiamo acquistare tre tipi di biscotti, abbiamo quelli con aranci di Sicilia, al cacao, cacao e gocce di cioccolato. Questi li potete trovare nelle piazze italiane che si troveranno il prossimo 15 e 16 maggio. Oppure comunque adesso vi lascio le sue pappe per poterli acquistare. Ovviamente tutto si fa sempre con il cuore. Grazie a Teleton, ma anche grazie a voi, possiamo comunque sostenere questa ricerca scientifica di fondazione Teleton con i cuori di biscotto che potete acquistare. Grazie a Teleton, ma anche grazie a noi. Grazie a Teleton, ma anche grazie a votare. Grazie a tutti.